ciao ragazzi sono carmelo sono un ragazzo nisce mese tantissimi anni fa decisi di iscrivermi all'istituto alberghiero per appunto seguire il mio il mio sogno il mio desiderio che era quello di fare il cuoco e di diventare uno chef di cucina ci sto lavorando tuttora e aver fatto quella scelta a quell'età posso dire che mi ha portato solo dei benefici ho avuto la fortuna la possibilità di lavorare con degli chef di spicco mondiale come eston blumenthal martin berasateghi mauro cola greco ho avuto la possibilità appunto di girare l'europa di vivere in francia di scoprire nuove culture vivere in inghilterra conoscere nuove lingue oggi a 30 anni posso dire che sicuramente non sono arrivato c'ho ancora quella voglia che sentivo 15 anni fa di viaggiare e di riscoprire per cui se questo è il vostro spirito la scuola alberghiera sicuramente fa per voi ciao